Bell'attoria anche dell'allenatore, soprattutto perché sapevo che eravamo l'unica squadra dell'alto della classifica a giocare questa sera, era molto importante mettere la pressione sugli altri e soprattutto sfruttare la vittoria al Chievo e il fatto di avere provato di nuovo sei punti di più sul Napoli. Sul terzo, questa sera abbiamo 9 punti con un pareggio di partite sul terzo, un'onora vuol dire che è un bel vantaggio, ma fino al tempo dove matematicamente non sarà più la cosa, sarà sempre aperto. Sulla seconda domanda non ho ben capito e ne ho neanche la voglia di rispondere, anche se capisco la domanda. Grazie.